Il gol dell'ex è arrivato forse un po' troppo tardi, non è bastato? Sì, abbiamo avuto diverse occasioni per accorciare le distanze, però oggi purtroppo è andata così. Chiaramente a mio avviso il Verona ha espresso un gioco migliore, quindi tutto sommato secondo me il risultato è anche giusto. Una partita forse diametralmente opposta a quella dell'andata, quando fu la Fiorentina a fare un gran primo tempo e a trovare un Verona in difficoltà. Forse una Fiorentina sorpresa da questo Verona? Sapevamo comunque la forza del Verona, quindi sappiamo benissimo che ha un potenziale offensivo molto forte. Oggi ha dimostrato di avere le idee chiare in tutto l'arco della partita. Prima accelerando perché comunque doveva ribaltare la situazione in classifica e poi una volta andato in vantaggio ha tranquillamente amministrato. E noi non siamo stati in grado di poter confrontarci con loro oggi. Valeria, un gol importantissimo il tuo, forse il più importante della tua carriera? Eh sì, infatti, guarda, sceglierei di farne pochi ma importanti, però penso che oggi abbiamo dimostrato veramente che siamo state brave, perché abbiamo fatto, penso, nove mesi, otto mesi mai la squadra titolare. O una è infortunata, o una, vabbè, non so dire quale problematiche della squadra, però io, al di là di tutto, aspetta, voglio ringraziare le mie compagne di squadra perché abbiamo tenuto duro fino alla fine. Fino alla fine, non abbiamo mollato neanche, ce ne siamo dette perché ci sta, perché se no non sarebbe una... In un gruppo ci sta, io ti mando a fanculo, a te tu mi mando a fanculo, a me, poi finisce là. Però veramente voglio fare complimenti a tutte le ragazze, dalla più piccola alla più grande. Grazie. Grazie.